Ciao a tutti ragazzi, per la video ricetta di oggi vi propongo un trancio di salmone sashimi extra dry scottato alla plancia e lo serviremo con una melanzana perlina aromatizzata al timo e aglio nero concluderemo il piatto con delle sfere di olio aromatizzate al sesamo per prima cosa ci occupiamo della nostra melanzana perlina che andiamo a spadellare al burro quindi una noce di burro in padella e nel frattempo che si scioglie andiamo a pelare la nostra melanzana perlina una volta pelate le nostre melanzane le andiamo a mettere in padella con il burro che si è scaldato e le andiamo a fare rosolare con un vero metto di tipo ok quindi andiamo a prendere un bel trancio centrale nel nostro salmone che poi andremo a rosolare una volta che abbiamo rosolato bene le nostre melanzane perline le mettiamo da parte e intanto rosoliamo il nostro salmone senza aggiunta di grassi perché il salmone è già un pece di suo abbastanza grasso e lo cucineremo solamente da una parte così da ottenere due consistenze diverse ok il nostro salmone ha quasi ultimato la cottura desiderata siamo pronti per impiattare andiamo a posizionare le nostre melanzane perline che aromatizziamo con un sale all'aglio nero è arrivato il momento di posizionare il nostro salmone che avrà le due cotture come vedete a questo punto olio storificato al sesamo in micro misticanza di Alpinelis in micro misticanza di Alpinelis